Siamo pronti per questa nuova puntata di Doppio Binario. Direi di sì, Simona, una puntata molto intensa, grazie appunto ai nostri ospiti che saranno in studio e in collegamento. Parleremo della proroga dello stato emergenziale e di come le imprese stanno attuando le misure anti-Covid e soprattutto di cosa rischiano effettivamente le imprese se qualora appunto non riuscissero ad attuarle in modo ottimale. Ma non anticipiamo altro, Simona? Assolutamente no, Gabriele, quindi a tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV che seguono Doppio Binario. Come anticipato in apertura oggi parleremo della proroga dello stato di emergenza appunto che è stato prorogato fino al 31 gennaio del 2021 e andremo a vedere quali sono le nuove regole entrate in vigore, cosa dovranno fare ora le aziende e soprattutto quali accorgimenti o adattamenti dovranno adottare nella gestione dell'ordinaria attività d'impresa. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti partendo dall'ospite in studio, l'avvocato Olimpio Stucchi che saluto qui e qui al mio fianco. Buongiorno. Buongiorno a lei. E invece in collegamento il dottor Pietro Scrimieri, direttore risorse umane e organizzazione Acquedotto Pugliese. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io dunque partirei proprio con l'avvocato Stucchi. Come già anticipato lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio del 2021. Cosa ci dobbiamo attendere o meglio quali sono le nuove regole entrate in vigore e cosa dovranno fare ora le aziende? Allora, negli ultimi giorni siamo stati destinatari di importanti interventi normativi. Un decreto legge del 7 di ottobre, il nuovo DPCM che ha sostituito il precedente, una ordinanza del Ministero della Salute e buon ultimo la legge di conversione del decreto agosto. Ci sono interessanti novità su questi punti. Allora, il nuovo DPCM ha prorogato, il decreto legge ha prorogato lo stato di emergenza. Con lo stato di emergenza prorogato ci sono le novità collegate all'utilizzo delle mascherine obbligatorio in luoghi aperti e anche in luoghi chiusi. Questa regola ha carattere generale, quindi la prima domanda che ci si è posti è vale anche per le aziende in ambiente lavorativo tutti i dipendenti debbono fare uso obbligatoriamente sul posto di lavoro delle mascherine? La risposta che ci siamo dati è no, perché viene fatto salvo il protocollo parti sociali. E con il protocollo parti sociali c'è tutta una normativa che resta in vigore, anche perché peraltro già ripresa e diventata quindi normazione primaria, che riguarda l'utilizzo delle mascherine obbligatorio solamente nel momento in cui non sia possibile rispettare le distanze. Quindi obbligo di mascherine in azienda no se è possibile rispettare il distanziamento, se non è possibile rispettare il distanziamento sì, obbligo di mascherine. Quindi questo obbligo di carattere generale per esempio all'aperto per tutte le persone non vale in azienda laddove si riesca a rispettare il distanziamento. Ulteriore novità, estensione dello smart working emergenziale, dove però c'è una sfasatura di tipo temporale, perché lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 di gennaio, ma lo smart working emergenziale, come pure le altre forme, sono state prorogate solo fino al 31 di dicembre, per ora. Vedremo più avanti. Quindi lo smart working, per come lo conosciamo, ha visto questo tipo di proroga. Con la legge di conversione del decreto agosto lo smart working è stato in qualche modo allargato, vale a dire lo smart working che era stato previsto per i genitori di figli contagiati in plesso scolastico, è stato esteso per le ipotesi di contagio anche in altri ambienti, per esempio in luoghi sportivi. Ancora è stato ampliato lo smart working a favore dei soggetti fragili, eppure per i genitori di ragazzi disabili. Quindi una serie di novità ulteriori. Dobbiamo tener conto che queste sono le norme di carattere nazionale e è possibile per le regioni stabilire delle regole, ovviamente su base regionale, maggiormente stringenti. Quindi abbiamo le regole nazionali che fanno una sorta di cornice quadro all'interno delle quali le regioni potranno fare delle norme di tipo più restrittivo. Ulteriore punto interessante è l'ordinanza del Ministero della Salute 7 ottobre che consente le trasferte all'estero per l'estero e dall'estero verso l'Italia senza obbligo di tampone laddove non vi siano sintomi in partenza e in arrivo e laddove le trasferte abbiano una durata inferiore a cinque giorni. La ringrazio, è molto interessante questa insomma novità che sono state un po' che lei ha illustrato in questa prima parte. Poi naturalmente torneremo anche su questo punto per andare a dare un approfondimento anche sugli accorgimenti un po' che devono adottare le aziende, le imprese anche alla luce di tutte le novità sanitarie. Io volevo un attimo però collegarmi dal punto di vista pratico con il dottor Scrimieri che mi sente in collegamento il quale vorrei chiedere. Quali misure anti covid invece sono state adottate dall'acquedotto pugliese al fine di evitare la diffusione del contagio tra i lavoratori? Allora giusto un flash per inquadrare l'attività dell'acquedotto pugliese. L'acquedotto pugliese è il più grande acquedotto d'Europa e gestisce l'intero ciclo idrico per più di 4 milioni di utenti in Puglia e in parte della Campania. Quindi acqua e depurazione. Perché faccio questa premessa? È una grande azienda con più di 2 mila dipendenti e circa 500 addetti esterni. È una grande azienda che quindi non si può fermare. Quindi gestendo un servizio pubblico essenziale non abbiamo avuto la possibilità di fermare le nostre attività per prevenire la diffusione del virus. Per prevenire il contagio abbiamo dovuto quindi adottare delle forme organizzative differenti e la reale differenza rispetto alle altre aziende era che il nostro servizio è dovuto continuare. Quindi servizi sul campo per quanto riguarda la manutenzione delle reti, servizi presso gli utenti, servizi amministrativi di supporto a questa attività più operativa sui territori. In primissima battuta e ricordando bene i momenti veramente frenetici, in circa 48 ore noi siamo riusciti a porre circa mille persone in telelavoro. Uso il termine telelavoro perché non si è trattato effettivamente di uno smart working che è caratterizzato da situazioni, da un'organizzazione differente, quindi telelavoro, un lavoro da casa e per poter riuscire a fare operare in tutti i nostri collaboratori che svolgono un'attività amministrativa dalle loro abitazioni abbiamo dovuto fare un forte ricorso chiaramente a supporti informatici, supporti anche di competenze e di conoscenze nei confronti dei nostri collaboratori. Una piccola riflessione, chiaramente questa situazione è stata resa possibile dal fatto di venire fuori da una fase o di essere nel pieno di una fase di digital transformation della nostra organizzazione e quindi di dotazione di tutto il nostro personale di supporti informatici ed informativi di importanza notevole e quindi di rilevante efficacia. Quindi metà del nostro organico che svolge attività amministrativa è stata posta in telelavoro. Per realizzare questo però c'è stato un grosso investimento come dicevo nell'IT, un grosso investimento anche di formazione online nei confronti dei nostri collaboratori. Dal punto di vista invece dell'operatività questa è stata assicurata sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza mediante per esempio attraverso uno spalzamento degli orari di avvio delle squadre quindi rendendo molto difficile e se non impossibile la possibilità di incontrarsi all'interno degli spogliatoi creando delle situazioni veramente quasi a compartimenti stagni per poter consentire un rischio veramente minimo. adozione di tutti gli strumenti di protezione, formazione rispetto al loro utilizzo, disposizioni anche all'interno delle autovetture di un certo particolare regolamento per poter garantire questo tipo di attività in sicurezza. Quindi di fatto noi abbiamo consentito e di questo devo dire sono veramente grato a tutto il nostro personale abbiamo consentito di poter essere, di operare nelle strade, nei territori, nelle strutture pubbliche, negli ospedali garantendo questo servizio. Immaginiamo solamente cosa sarebbe potuto succedere se nel periodo di lockdown ma anche oggi del resto ci fossero stati dei problemi legati per esempio all'erogazione dell'acqua all'interno di un ospedale, di un centro covid, di uno in qualsiasi istituto in quel momento già gravato da dover gestire una situazione così difficile. Non è stato chiaramente semplice perché? Perché continuando a lavorare noi abbiamo dovuto porre l'attenzione su un punto molto importante cioè evitare il fatto che questa logica che noi abbiamo di lavorare per team, per squadre questa logica molto forte che esiste in acquedotto pugliese di lavoro di squadra si perdesse in favore invece di una massiccia diffusione di individualismo quindi il dover lavorare da casa, delle proprie abitazioni poneva questo rischio quindi venir meno di questo lavoro di squadra, la nostra organizzazione è basata sul lavoro di squadra per questo noi in particolare anche come direzione risorse umane abbiamo e quindi in particolare con il lavoro della nostra academy interna, della QP Water Academy abbiamo fatto sentire la nostra presenza quotidianamente mediante dei seminari web che abbiamo organizzato per tutto il personale quindi con cadenza bisettimanale vi erano dei momenti di contatto con tutto il personale quindi di creazione di ricreazione della condizione di lavorare insieme che vi era preventivamente quindi questi seminari tenuti sia da docenti esterni sia anche da colleghi esperti che hanno fatto della formazione online anche su temi generali altra cosa molto importante che ha avuto un successo è stata la creazione di uno sportello psicologico tenuto da uno psicoterapeuta dedicato sia ai dipendenti che ai loro familiari perché il momento non è stato facile per nessuno quindi abbiamo avuto ragazzi che hanno chiamato abbiamo avuto anche anziani anche gli stessi dipendenti che hanno chiamato per poter avere un momento di confronto e di conforto rispetto alla drammatica situazione che si stava vivendo quindi da un punto di vista di questa fase vi è stato un grosso supporto al nostro personale un po' 360 gradi ricordo anche per esempio una bellissima iniziativa legata a delle lezioni che noi abbiamo fatto di Pilates sempre online via web che erano anche lì con frequenza bisettimanale proposte a tutto il nostro personale e di loro familiari e devo dire che hanno avuto veramente un grande successo in ultima analisi abbiamo fatto funzionare poi ne abbiamo all'interno una web tv abbastanza utilizzata e quindi c'è stata una serie di messaggi che sono stati utilizzati e sono stati mandati al nostro personale attraverso la web tv quindi in sintesi una serie di iniziative per supportare da un punto di vista psicologico ma anche motivazionale tutto il nostro personale. C'è da dire una cosa noi a Quedotto Pugliese io dico sempre è un'azienda molto particolare perché è un'azienda con un fortissimo senso di appartenenza una fortissima consapevolezza di gestire un servizio pubblico essenziale in sintesi noi abbiamo uno slogan noi non possiamo sbagliare questo vale per tutte le aziende ma in particolare per noi non esiste la possibilità che al mattino o in qualsiasi momento della giornata vi sia un quartiere, un isolato ma anche un singolo appartamento che non possa utilizzare l'acqua per la vita quotidiana quindi questo sgrossissimo senso di responsabilità ha fatto sì che il servizio non risentisse di questa situazione quindi grandissimo anche successo dell'iniziativa di lavorare da casa anche perché eventuali disfunzioni per esempio eventuali ritardi nei nostri investimenti si sarebbero riflessi sulla tariffa dei nostri utenti e quindi questo sicuramente non è avvenuto. ultimissimo flash legato ad una indagine che noi abbiamo fatto al termine durante il periodo che ha evidenziato con un questionario anonimo presso tutti i nostri collaboratori un grandissima fiducia nei confronti dei manager dell'azienda di come l'azienda ha gestito questa situazione e questo se vogliamo nella crisi, nella situazione emergenziale devo dire si è ricompattato si è compattato tutto il personale e anche il rapporto con le organizzazioni sindacali. La ringrazio per questa sua interessante testimonianza anche perché è molto bello quello che lei ci ha appena raccontato dovuto al fatto innanzitutto che Acquedotto Pugliese come ha detto lei è un caso un po' particolare perché appunto gestisce un servizio di primaria necessità e quindi di necessità pubblica quindi avete questa peculiarità non da poco e quindi non potevate e non potete certamente fermarvi anche perché è un bene l'acqua essenziale primaria di primaria importanza. E poi è molto interessante le iniziative anche particolari che sono state adottate da parte di Acquedotto Pugliese che non sono da tutte, anche il corso di Pilates e tutte le altre il supporto psicologico che sicuramente in questa fase di lockdown è stato sicuramente utile e non tutte le aziende effettivamente lo hanno adottato queste iniziative sinceramente sono molto belle anche da ascoltare. Io passerei all'avvocato Stucchi a questo punto alla luce delle novità sanitarie parlando, ritornando appunto al fatto che lo stato di emergenza è stato prorogato alla luce delle novità sanitarie e appunto delle normative degli ultimi giorni quali sono gli accorgimenti e gli adattamenti che dovranno un po' appunto gli accorgimenti che dovranno adottare le aziende nella gestione della loro attività di impresa d'ora in poi quindi cosa dovranno fare, ecco. Ritorniamo un po' al punto di partenza se vogliamo. Sì, se fine a qualche giorno fa c'era una forte speranza di avvio verso il new normal diciamo che questa speranza è postergata ancora per un po' di tempo. Le aziende devono fare i conti con le regole entrate in vigore da poco. La prima cosa che conviene fare alle aziende è considerare se operano sul territorio di una sola regione o di più regioni perché nel caso operino in più regioni debbono fare i conti con la normativa regionale e quindi interessarsi per valutare quali regole esistono su base regionale quanto siano diverse, come applicarle. Questo è un dato assolutamente essenziale da considerare perché per esempio, giusto per capirci, in Lombardia c'è l'obbligo di utilizzo delle mascherine in tutti gli uffici e da parte di tutti i dipendenti laddove i locali siano aperti al pubblico. Per quanto mi consta, questa norma esiste solo in Calabria. Nelle altre regioni ogni applicazione di una regola similare è su base volontaria. ugualmente la rilevazione della temperatura nei confronti di tutti i dipendenti. Quindi allora considerare il quadro normativo regionale è sicuramente una buona pratica. Seconda cosa, si tratta di valutare attraverso un'attività di due diligence se vi siano degli adattamenti da apportare ai regolamenti in vigore e ai protocolli anti-Covid che sono stati instaurati nell'ambito di ogni azienda. Quindi vedere come le nuove regole sono andate ad impattare rispetto al quadro normativo precedente tenendo conto anche che sulla base del dato di esperienza bisognerà riconsiderare il D'Uvri, cioè il documento unico di valutazione dei rischi. Quale D'Uvri non è un documento statico? Una volta fatta la valutazione dei rischi ci si ferma perché se cammin facendo nella vita di un'azienda emergono sulla base dell'esperienza vissuta delle situazioni diverse a quelle valutate inizialmente è obbligo dell'imprenditore provvedere a fare un adeguamento anche perché come conseguenza del mancato adeguamento ci sono delle sanzioni amministrative nei casi più gravi anche di tipo penale. Un'ultima cosa per le aziende che non hanno fino in fondo considerato la materia dei protocolli sanitari conviene prendere la palla al balzo e stabilire dei regolamenti regolamenti attraverso i quali andare a normare tante situazioni non ultima direi anche l'utilizzo delle mascherine nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa perché non dimentichiamoci che quei percorsi ancorché fuori dall'azienda, quindi dal perimetro aziendale ciò nonostante ai fini della normativa INAIL quindi quella dei infortuni sul lavoro sono considerati rilevanti ai fini del cosiddetto infortunio in itinere quindi il datore di lavoro cautelativamente deve fare una prescrizione per l'utilizzo delle mascherine anche nel percorso casa-lavoro e viceversa. Io la ringrazio Avvocato Stucchi tornerei dal Dottor Scrimieri allora visto che l'Avvocato Stucchi ha appena accennato un paio di accorgimenti che insomma le aziende dovrebbero adottare da qui in poi con questa proroga e queste novità diciamo normative le chiedo quali saranno gli accorgimenti che intendete voi dell'acquedotto pugliese adottare quindi quale cosa cambierete nella gestione se cambierete qualcosa nella gestione del personale a seguito proprio di questa proroga dello stato d'emergenza? Sì noi cambieremo diverse cose prima soluzione organizzativa noi cercheremo di passare per determinate posizioni a un vero e proprio smart working quindi non telelavoro quindi lavoro dalla progabilitazione ma organizzazione del lavoro in smart working per tutte le famiglie professionali per le quali è possibile definire dei parametri quantitativi verificabili anche quotidianamente mi spiego per determinate famiglie professionali quindi si sta lavorando alla definizione di alcuni standard quantitativi e qualitativi da monitorare anche con l'ausilio di sistemi informativi per i quali quindi queste famiglie professionali per queste famiglie verrà adottato lo smart working e quindi potranno lavorare al di fuori dell'ufficio anche al di fuori delle proprie abitazioni se lo riterranno quindi questa è la prima è la prima novità la seconda è che determinate attività che invece sono state per esempio tipo il call center abbiamo delle attività di call center che adesso stiamo svolgendo dalle abitazioni anche per queste siccome stiamo avendo degli ottimi risultati anche da questo punto di vista si procederà a testare la possibilità che si continui in smart working questa attività lo stesso per quanto riguarda le attività di front office che sono state un attimino ridimensionate in termini quantitativi come punti di front office e qui si aprirà una discussione e una verifica se mantenere questo tipo di organizzazione e organizzazione del lavoro quindi di fatto andremo a mantenere tutte quelle traduzioni organizzative che hanno consentito di non una volta adottate durante il lockdown hanno consentito di non ridurre la produttività aziendale quindi se vogliamo questo periodo sotto questo punto di vista con tutte le tragicità del caso ci ha stimolato all'introduzione di alcune forme organizzative che probabilmente qualche mese fa noi avremmo avuto grosse difficoltà a prendere in considerazione quindi oggi che iniziamo e ricordo anche che comunque noi siamo un'azienda capitale pubblico lo dico perché venendo dal settore privato conosco bene un po' la differenza tra i vari settori però sotto questo punto di vista Acquedotto Pugliese è un'azienda anomala non solo per l'attività svolta ma anche per i risultati perché è un'azienda che fattura circa 500 milioni produce circa 50 milioni di utili è un'azienda sana è un'azienda virtuosa quindi questo momento ci consente di introdurre delle novità e delle soluzioni organizzative più importanti per esempio c'è una grossissima di ricorso alle riunioni online o alla formazione sulle piattaforme prima noi avevamo l'abitudine a far spostare molto il personale adesso si tende a essere sempre più e si tenderà sempre più ad essere collegati online ma anche per quanto riguarda fare delle riunioni direzionali queste verranno gestite in questo modo dal punto di vista del momento proprio della situazione contingente abbiamo lanciato per esempio una campagna sierologica dove abbiamo proposto e questo in forma facoltativa a tutto il personale la possibilità di effettuare la spesa chiaramente aziendale un test sierologico quantitativo per verificare la presenza di eventuali e facendo anche i debiti scongiuri diciamo che ad oggi abbiamo avuto un riscontro pari a zero e questo cosa significa? significa che è il parametro vero quantitativo dell'efficacia delle azioni che si sono intraprese e deve essere anche questo da stimolo a capire che non possiamo abbassare la guardia adesso che dobbiamo essere ancora più attenti tutto il nostro personale è dotato degli strumenti di protezione si fa continuamente ci sono continuamente delle campagne che spingono all'utilizzo sia proprio di oggi e una comunicazione che ho fatto a tutto il personale dove invito tutti quanti sia sul posto di lavoro ma anche nelle abitudini quotidiane e familiari leggevo che la principale è il luogo di contagio e della diffusione del virus è all'interno della vita familiare quindi anche nell'ambito della vita familiare ad avere atteggiamenti positivi da questo punto di vista ecco quindi massimo rispetto delle norme massima sicurezza da parte degli operativi e abbiamo anche per esempio agito nei confronti degli utenti quindi continueremo sempre in termini di variazione al nostro modus operandi continueremo ad agire nei confronti degli utenti perché perché noi abbiamo promosso una campagna per il massivo utilizzo dei nostri servizi online invece di recarsi presso i nostri front office presso i nostri uffici vi è la possibilità di effettuare quasi tutte le operazioni online e quindi abbiamo lanciato questa campagna aiutaci a donare perché ogni qualvolta c'è un'operazione effettuata online con Acquedotto Pugliese vi è da parte di Acquedotto Pugliese una donazione che noi effettiamo quindi questa è una campagna che sta andando anche molto bene quindi da questo punto di vista su questi su questi binari ci stiamo muovendo quindi nuova organizzazione del lavoro che prevede lo smart working assistenza ai nostri ai nostri dipendenti quindi noi stiamo lavorando per far sì che i nostri collaboratori siano sempre più persone e meno individui quindi il rischio che ci sia un massiccio diciamo sentimento individualista in questo periodo per noi è veramente sarebbe deleterio quindi invece abbiamo bisogno di persone che creano collegamenti che creano fonti che condividono le decisioni e su questo questa è la principale direttrice sulla quale stiamo lavorando quindi fare squadra sempre ovviamente anche in queste situazioni maggiormente in queste situazioni Dottor Scrimieri io la ringrazio e la saluto grazie grazie a voi della opportunità e saluto ovviamente anche il mio ospite studio l'avvocato Stucchi dunque ci vediamo tra poco con la seconda parte di Doppio Binario restate qui con noi e ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario e se nella prima parte ci siamo concentrati sulle numerose novità normative in tre corse proprio in questi ultimi giorni adesso vediamo effettivamente cosa rischiano le imprese che non dovessero diciamo adottare nel dettaglio le misure anticontagio previste appunto dalla normativa la quale come appunto abbiamo visto presenta anche diverse zone d'ombra vedremo quindi anche quali sono nel concreto le criticità che stanno affrontando e che hanno affrontato le imprese nell'implementazione delle norme anti-Covid e soprattutto vedremo anche come è possibile conciliare la necessità di attuare queste misure e effettivamente concentrarsi anche sulla continuità e sullo sviluppo del business che rimane chiaramente diciamo la stella polare per qualsiasi azienda italiana ecco io vi presento i nostri ospiti che ci aiuteranno a fare il punto su tutti questi aspetti partendo dall'avvocato Olimpio Stucchi che è di nuovo con noi buongiorno buongiorno un saluto anche da parte mia e il dottor Silvano Garro HR Director di Rinascente buongiorno e benvenuto in collegamento buongiorno buongiorno a voi bene avvocato io parto da lei per fare un po' un esame appunto dal punto di vista normativo che ha già fatto nella prima parte però le chiedo quali sono le responsabilità a cui si espongono le aziende che non adottano le opportune diciamo misure anticontagio prego allora anzitutto dobbiamo definire il più possibile con precisione quali siano le misure anticontagio e dove stanno dettate è il protocollo parti sociali del 24 di aprile del 2020 che è stato recepito da dai DPCM quindi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri questo protocollo partito come un atto tra soggetto privati perché è stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le principali e dai sindacati nazionali poi dopo è stato recepito in ambito di DPCM diventando così una normativa che ha una vigenza di legge quindi vale per tutte le aziende anche per tutte quelle che non sono iscritte alle organizzazioni sindacali quella è la normativa minima che ogni azienda deve rispettare se non vuole andare soggetta a qualsiasi forma di responsabilità e di responsabilità ce ne sono molteplici quindi la stella polare diciamo il protocollo del 24 di aprile resta la stella polare ogni normativa ulteriore l'azienda se la può autoprescrivere in via volontaria quindi se ritiene di darsi delle regole più stringenti può farlo liberamente però bisogna osservare quella cornice stabilita dal protocollo allora le responsabilità aziendali possono essere di vari tipi distinguiamole su due grandi filoni nel caso di assenza di contagio e di presenza di contagio quindi violazione della normativa anticontagio se vogliamo pura e violazione invece che ha dato luogo a contagi dei dipendenti nel primo caso dobbiamo tener conto che in genere queste normative vengono violate ma le relative violazioni emergono soltanto in fase ispettiva vale a dire quando autonomamente da parte degli organi preposti o su segnalazione avviene un'ispezione in azienda e quindi viene rilevata una violazione delle regole del gioco a quel punto le conseguenze usuali sono le cosiddette prescrizioni vale a dire l'ente ispettivo che può essere l'ispettorato nazionale del lavoro oppure i carabinieri in funzione ispettiva adesso anche è possibile le forze armate per il controllo delle violazioni anticontagio rilevando delle violazioni danno le cosiddette prescrizioni cioè le indicazioni che le aziende devono seguire per ritornare in compliance quindi per porre rimedio alle violazioni conseguenza eventualmente accessoria di questa può essere la sospensione dell'attività d'azienda perché la rimessa in compliance non sempre è di tipo immediato se la violazione è stata il non uso delle mascherine basta rimettere le mascherine che i dipendenti rimettano le mascherine il problema è risolto ma se per esempio la violazione riguarda cose più importanti come per esempio i percorsi l'ingresso di uscite i percorsi interni in ambito produttivo evidentemente c'è bisogno di un tempo per attuare le misure e quel tempo non può essere speso lasciando attive le attività perché altrimenti si svolgerebbero in contemporanea con delle violazioni quindi deve essere sospesa l'attività devono essere attuate le prescrizioni per riportare l'attività in linea con le regole anticontagio e solo successivamente potrà esserci la verifica ulteriori misure sono date dal rapporto che viene fa può essere fatto al prefetto per le sanzioni amministrative o addirittura alla procura della repubblica nel caso vi siano violazioni normative antinfortunistiche più importanti questo nel caso in cui vi sia stata una violazione di norme senza conseguenze per i lavoratori perché laddove invece vi fossero conseguenze per i lavoratori entriamo in ipotesi decisamente più gravi perché a quel punto il contagio porta con sé normalmente lesioni personali bisognerà vedere di che grado di gravità e quindi allora si cade nel penale certo sicuramente ma si cade anche in responsabilità di tipo civilistico perché una violazione di quel genere di norme comporta infortunio sul lavoro comporta responsabilità patrimoniale del datore di lavoro per il cosiddetto danno differenziale tra il danno totale e il danno liquidato dall'Inail ma anche il rischio di un'azione di regresso da parte dell'Inail per i quattrini che dovesse andare a pagare in sede risarcitoria al lavoratore azione di regresso nei confronti del datore di lavoro quindi diciamo che la posta in paglia è molto alta però ecco spesso c'è anche un problema proprio di coordinamento e di interpretazione della normativa lei chiaramente essendo avvocato giusto lavorista ha un punto di vista di vantaggio però molte imprese sono un po' lei me lo confermerà sono rimaste un po' diciamo in confusione per l'iperproduzione normativa da ultimo vediamo anche la questione della mascherina sui sui luoghi di lavoro nel senso che l'IPCM poi mi correga se sbaglio diceva che la mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi però appunto il protocollo del 24 aprile a cui faceva riferimento dice che basta un metro di distanza per cui dottor Garo io mi rivolgo a lei come vi state orientando in questa diciamo in questa selva normativa sicuramente questo è stato uno dei periodi più complicati per le aziende sia per tutto quello che la pandemia ha portato in termini di risultati di Fatturato ma soprattutto per anche l'interpretazione delle norme quella degli protocolli è stata una delle partite più difficili noi dall'inizio abbiamo collaborato con il Politecnico di Torino per costruirci dei protocolli ad hoc all'interno di tutti i nostri negozi e sicuramente l'interpretazione delle norme è stata una delle cose più complesse mandando proprio diciamo su argomenti molto molto pratici come quello della distanza le mascherine i percorsi l'utilizzo dei guanti prima sì poi poi no quindi abbiamo comunque noi fatto dei protocolli uno per ciascuno storno abbiamo nove negozi più l'headquarter e abbiamo quindi messo a punto dieci protocolli che riguardano tutte le misure di prevenzione di sicurezza in alcuni casi siamo stati un po' più larghi abbiamo previsto ad esempio i due metri e mezzo di distanza proprio per cercare di non incorrere in nessun tipo di fraintendimento o di e quindi che ci avrebbe portato poi a delle sanzioni devo dire che questi hanno funzionato in caso di alcune aspezioni siamo stati come dire andavano bene e anzi poi l'applicazione che dedichiamo su ogni piano il numero contingentato sia per quanto riguarda i nostri piani di vendita sui negozi sia a totale una storia è stata un'altra delle misure che abbiamo implementato e quindi fino ad oggi incrociando le dita sono dei protocolli che hanno funzionato e che sono stati riconosciuti come validi anche a fronte di ispezioni che sono state fatte devo dire comunque poi c'è stato un grande senso di responsabilità sia da parte di tutte le persone che lavorano all'interno dei nostri negozi in sede e poi anche per dare al cliente una sensazione di sicurezza che per noi è fondamentale che il cliente avviva all'interno dei nostri dei nostri settori infatti appunto avvocato io torno da lei siamo di fronte a una a una grande sfida comunque poi vada la situazione emergenziale le imprese sono di fronte a una grande sfida che è quella di garantire comunque la continuità ma non solo lo sviluppo proprio della realtà imprenditoriale nonostante appunto questa emergenza quali strumenti hanno a disposizione le aziende per poterlo fare ma innanzitutto le aziende sono in grave sofferenza per problemi di contrazione dei ricavi alcune aziende hanno avuto un crollo fino al 90 95% quando i ricavi scendono a questi livelli è praticamente impossibile pensare pensare di andare avanti penso per esempio ad alcuni tour operator di grande nome non facciamo questo nome però sono in una sofferenza totale non riescono più a organizzare viaggi in giro per il mondo anche perché in giro per il mondo si sta peggio rispetto che in Italia i numeri nostri i numeri nostri sono decisamente contenuti se pensiamo e li compariamo per esempio a quelli di qualche giorno fa in Francia in Francia vanno a ritmo di 25.000 nuovi contagi al giorno i nostri numeri sono nell'ordine dei 5.000 se non ricordo male proprio oggi a fronte di questa grande contrazione di ricavi abbastanza generalizzata è stato posto in essere un impianto normativo basato su due principi divieto di licenziamento accesso alla cassa integrazione vale a dire che i dipendenti che non potevano essere occupati utilmente occupati non erano più un costo a carico delle aziende ma venivano messe a carico dello Stato e questa è la cosiddetta cassa covid però è una misura che non è di lungo respiro è una misura veramente emergenziale come lo smart working emergenziale è emergenziale sono strettamente collegati al periodo non vanno a incidere minimamente su quello che è il deficit strutturale di sistema perché quello che doveva essere il supporto finanziario alla fine si è ridotto nelle garanzie sacce rispetto a credito bancario dove però l'accesso al denaro è stato terribilmente difficile complicato da procedure a dir poco farraginose in tantissimi casi non è rogato i bonus dati ai lavoratori autonomi sono durati due mesi e dopodiché il nulla allora oggi che misure abbiamo abbiamo un esonero contributivo parziale per chi avendo goduto di cassa nel periodo massimamente emergenziale non vi ha fatto ricorso dal mese di luglio in avanti esonero contributivo parziale pochi soldi esonero contributivo totale per chi fa assunzioni allora uno dice caspita conviene assumere sì peccato che vale per sei mesi e con un massimale di 8 mila euro ancora una volta pochi soldi poi abbiamo un voucher per l'innovation manager cioè prestazioni consulenziali esterne dirette alla innovazione francamente sono misure a dir poco deboli non sono misure di sistema soprattutto se guardiamo a quello che stanno mettendo in campo anche altri paesi eh sì e adesso ci arriviamo perché adesso vediamo quali sono le misure di cui si sta discutendo per la prossima legge di bilancio finalmente il venir meno del blocco dei licenziamenti per ragioni economiche quindi si ritornerà alla possibilità di licenziare proroga della cassa integrazione decontribuzione triennale al 50% per le assunzioni di lavoratori dipendenti che diventa al 100% se l'assunzione riguarda degli under 35 ancora una volta però quali sono le misure a favore delle aziende queste sono misure favorevoli all'assunzione di personale ma se mancano i ricavi perché il business ha avuto contrazioni importanti non c'è bisogno di fare nuove assunzioni anzi bisogna gestire i dipendenti che si hanno a libro paga queste sono le misure italiane se vogliamo fare una comparazione e quindi andare a dire che cosa serve basta guardare l'esempio se vogliamo strutturalmente più vicino a noi che comunque siamo una nazione manifatturiera che cosa ha fatto la Germania la Germania è una nazione che ha in costituzione l'obbligo della parità di bilancio quindi il dovere di non fare deficit di bilancio salvo in casi eccezionali e questo è stato ritenuto un caso eccezionale e allora la Germania nel 2020 farà 10% di deficit ha fatto interventi per 1500 miliardi di euro 1500 miliardi di euro l'Italia al massimo ne ha fatti quasi 500 di cui la gran parte per garanzie sacere un terzo quindi un terzo e senza immettere liquidità invece la Germania ha fatto preso delle misure di grandi iniezioni di liquidità nel sistema per esempio abbattendo di tre punti l'iva che vuol dire lasciare in tasca dei soldi a tutti i consumatori tutti coloro che consumano pagheranno l'iva anzi hanno pagato e pagheranno l'iva nel 2020 dal 19 al 16% in Italia siamo già al 22 e 22 è rimasto punto primo secondo prestiti alle PMI garanzie bancarie sovvenzioni a fondo perduto bonus di 300 euro per ogni figlio bonus lavoratori autonomi liquidità aggiuntiva immessa nel sistema tramite una banca pubblica che corrisponde più o meno alla cassa depositi e prestiti tedesca allora queste misure sono state tutte efficaci perché il denaro laddove è stanziato è stato erogato velocemente certo è un quadro a fronte della difficoltà di sistema la Germania ha deciso di prendere misure a favore delle imprese perché continuassero a vivere continuassero a stare in piedi nonostante il crollo dei ricavi facendo ciò a favore del lavoro cioè si va a favore del lavoro mediando attraverso la misura fatta a favore dell'impresa e poi a favore delle famiglie e dei consumatori quindi misure strutturali e non emergenziali o se vogliamo tra virgolette tappabuchi come in Italia e denaro vero denaro vero dottor Garo io torno da lei e le chiedo invece come state affrontando voi questa questa sfida della continuità dello sviluppo del business dal punto di vista poi dell'organizzazione delle risorse umane prego ma io concordo pienamente con quanto detto dall'avvocato oggi onestamente potrebbero anche dirmi non pagare i lavoratori che ci pensa qualcun altro ma io non ho bisogno di una forza aggiuntiva in questo momento e noi resteranno anche il business per noi il turismo è stato padrone abbiamo un'incidenza sul fatturato del 40% quindi se non arrivano i turisti per noi è difficilissimo andare avanti soprattutto in città come Roma Firenze e Milano soprattutto dove viviamo di turismo quindi detto questo sicuramente dobbiamo dare alle aziende i soldi forse li hanno anche messi li hanno messi in maniera in alcuni casi inspiegabile come il bonus delle biciclette che non ho capito dove volevano andare a parare col bonus delle biciclette mi sembrava una misura abbastanza peregrina però tant'è la cassa integrazione ci ha aiutato ma nei prossimi mesi noi saremo chiamati a fare i conti se non dovesse essere tutta la cassa integrazione con una riorganizzazione perché è una struttura che è di mezza un'azienda che di mezza i ricapiti del 50% è una struttura di costi che può permettersi con il 50% di più io devo andare a rimodulare la struttura dei costi e la struttura del costo del lavoro dovranno per forza dal mio modo di vedere riaprire la possibilità dei licenziamenti per motivi organizzativi quindi licenziamenti di carattere economico e sul discorso delle assunzioni io onestamente faccio fatica a comprendere come questa misura può o possa aiutare le aziende sicuramente quello dell'IVA può essere un incentivo ma la prima cosa è la possibilità alle aziende di riorganizzarsi poi sarai mi sentite la possibilità alle aziende di riorganizzarsi di riorganizzarsi e quindi diciamo di eliminare il blocco dei licenziamenti in in primis questa è la cosa che tutti ci affrontiamo perché andare avanti ancora così per altri mesi io la vedo veramente durissima eh sì il blocco dei licenziamenti in molti casi si è rivelato un boomerang e scadrà questo blocco il 31 dicembre giusto avvocato certo scade il 31 dicembre eh può al termine le notizie che abbiamo ora ci dicono che non dovrebbe essere rinnovato però da qui al 31 dicembre possono succedere tante cose io purtroppo da una settimana all'altra possono succedere tante cose certamente penso però che eh se salta il blocco dei licenziamenti andremo incontro a una stagione molto difficile veramente molto difficile perché a quel punto credo che ci saranno migliaia 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 di licenziamenti certo e questo è chiaramente l'altro lato della medaglia io vi ringrazio molto per essere stati con noi avvocato Olimpio Stucchi studio legale Uniolex grazie grazie per l'invito e il dottor Silvano Garro HR Director Rinascente grazie anche a lei grazie grazie a voi grazie anche ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti